Buongiorno e benvenuti, questa è la segna stampa di oggi 7 novembre. Allora vediamo quali sono i temi fondamentali dei giornali. Quello fondamentale è forse quello politico, perché in realtà tra Di Maio e Salvini le cose sembrano andare sempre peggio. I temi di discordia tra i due sono il decreto sicurezza, quello che ha voluto fortemente la Lega e sul quale dovrebbe essere posta la fiducia proprio oggi. E il secondo invece, quello che deriva da un emendamento di buona fede, è quello sulla prescrizione. Mai! Sostanzialmente quando si ha una sentenza di primo grado, qualsiasi essa sia, finisce ogni tipo di prescrizione. Quindi i processi, secondo il fatto, secondo un'intervista oggi di Davigo, no? Meno male che non si occupano di politica loro, no? Entrano pesantemente nelle questioni politiche. Beh, insomma, secondo questi signori del fatto i processi si dovrebbero ridurre togliendo un limite ai magistrati nel farlo concludere. Il 90% degli altri osservatori invece pensa agli avvocati e ci sta, ma tutti gli osservatori in ordio e tantissimi altri osservatori dicono una cosa molto semplice. Se c'è fine pena mai, c'è fine prescrizione mai, questo è un rischio non soltanto assurdo, lo scriviamo da 500 anni, ma ovviamente i processi non avranno, i magistrati non avranno nessun incentivo a chiuderli nei tempi previsti. Ma ne torneremo di questa vicenda perché c'è un altro elemento che forse è sfuggito a tanti. Ritorniamo sull'ira di Maio e Salvini. Repubblica dice addirittura che si tratta di rottura tra i due, mentre invece il giornale di Sallusti scrive Salvini non mollare, sostanzialmente dando una interpretazione molto semplice della vicenda, e cioè che sono lì lì per concludere la loro storia d'amore, e questa loro storia d'amore potrebbe essere conclusa se Salvini sulla prescrizione non molla, e soprattutto sul decreto legge e sicurezza, sul disegno di legge e sicurezza, sul quale non c'è nessuna intenzione di mollare. Folli su Repubblica oggi nota una cosa peraltro vera, e cioè dice questi non erano quelli che ci avevano spiegato che doveva esserci una maggiore centralità del Parlamento, perché lì si poteva esprimere meglio la forza dei partiti e delle forze che sono state elette. Bene, insomma, si ha ragione Carlo, per Repubblica è sempre rottura la questione del governo, l'ha detto un po' troppe volte, però questa volta qui è un po' più dura rispetto al passato. Comunque Folli, vi ripeto, dice oggi su Repubblica un altro elemento fondamentale, qua la fiducia doveva essere soltanto quella dei passati governi, di Renzi, di Berlusconi, di Gentiloni, di Letta, e questi al primo decreto importante già pongono la fiducia che dovrebbe esserci già nel contratto di governo, insomma un po' di contraddizioni ci sono. Il messaggero dice che in realtà all'interno di questo decreto, tra l'altro di questo disegno di legge sicurezza, in realtà poi una delle norme che sarebbe quella sugli sgomberi, vi ricordate sulle occupazioni, un'altra delle grandi battaglie della Lega, non dico la ruspa nei campi Roma, ma dico semplicemente le occupazioni degli stabili da parte di irregolari, insomma sarebbe stata rimandata di un anno, questa informazione ce la dà soltanto il messaggero. La stretta sugli sgomberi quindi salterebbe. Verderami addirittura sulla politica si azzarda a dire che si arriverà presto ad elezioni, cioè a marzo, prima delle elezioni europee a maggio, anche perché mi sembra che sia non possibile fare elezioni europee e elezioni politiche nello stesso momento. Detto questo quindi insomma c'è area di elezioni, poi vedremo perché poi c'è Natale, poi si rasserenano gli animi, poi c'è il problema che Di Maio non si potrà più ricandidare, ma insomma vediamo se la rottura di cui parla Repubblica, come diceva prima Carlo, è una cosa che avverrà. L'elemento fondamentale su cui oggi sembra rompersi è l'impuntatura, oppure semplicemente il blitz che sta facendo il Movimento 5 Stelle sulla questione del disegno di legge e sull'emendamento prescrizione. La tesi del fatto, ve l'ho già detta, è quella di Davigo, è semplice, se i diritti, se i delitti non si prescrivono più, i processi durano di meno. Questa è la tesi del fatto di Davigo e poi c'è il pezzo di Travaglio che ci racconta tutte le grandi prescrizioni orrende. Si dimentica Travaglio una prescrizione che non è stata accettata e che è avvenuta oggi, di cui si ricorda Feltri in prima pagina sul suo giornale, ma si ricorda anche il Corriere della Sera, cioè la scandalosa storia di Tronchetti Provera, che è stato assolto per la terza volta e la terza volta ha rinunziato alla prescrizione, perché ha detto voglio uscire completamente, lo devo alla mia famiglia, dice da qualche parte, voglio uscire completamente, ma è assurda la situazione che è avvenuta a Tronchetti Provera, accusato di aver fatto qualsiasi cosa a Telecom. Sapete perché è assurda? Perché questa in realtà non è una storia di giustizia, è una storia di politica, è una storia di giornali che hanno attaccato Tronchetti Provera sulle famose intercettazioni che non ci sono mai state, su una banda di persone che evidentemente faceva male all'interno della sua azienda e di cui lui veniva considerato responsabile di oggettivo. E la questione di Tronchetti è che alla fine l'azienda gliel'hanno tolta, cioè Telecom l'hanno riusciti a togliere a Tronchetti e l'hanno mollata a una specie di casino nella quale si trova tuttora. Allora io vi chiedo e mi chiedo e vi chiedo a tutti quanti voi cosa facciamo con il tema della giustizia? Veramente possiamo pensare che tutti debbano fare come Tronchetti cioè di non rinunciare mai alla prescrizione e continuare fino a 100 anni a difendersi da un processo? Io non so se questo sia il sistema migliore. Oggi Forte sul giornale fa una cosa molto semplice, Francesco Forte, professore di Scienze delle Finanze, sapete cosa fa? Fa semplicemente una lettura dei delitti delle pene di Beccaria in cui alla fine dice il fine delle pene non è tormentare un essere sensibile ma di minimizzare i danni arrecati dai reati ai cittadini della nostra società. Questo lo scriveva Beccaria. Poi voi se volete leggetevi Travaglio, leggetevi Davigo, pensate che sia giusto quello che è successo a Tronchetti Provera, rimanete sempre questa diapensè per cui uno se è indagato è sicuramente colpevole. Insomma, questa è la situazione della prescrizione. Questa follia. Tra l'altro, un'altra cosa che io non ho letto sui giornali, lo sapete che quali sono il numero maggiore di... per quale motivo i delitti nel modo, diciamo, della stramaggioranza vengono prescritti? Vengono prescritti prima del primo grado. Cioè questi vogliono che si elimini la prescrizione dopo il primo grado. ma l'80% dei processi, delle indagini e di quello che volete voi sono prescritte prima del primo grado. Cioè questa legge non risolverebbe nulla perché in realtà la prescrizione è fatta dalla lungaggine delle indagini, delle inchieste e dalla cosiddetta, come possiamo dire, obbligatorietà dell'azione penale che è una farsa tutta italiana perché non c'è nessuna obbligatorietà. C'è la discrezione della... Ciao Valentina! C'è soltanto la discrezione della azione penale. Il Sole 24 ore di oggi è fantastico perché trova un nuovo condono, anzi un condono che riguarda 140 comuni italiani, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che due anni fa hanno subito i terremoti. C'è sempre ovviamente un innesco per fare il condono. Beh, in questi comuni colpiti dal terremoto possono mettere in regola gli interventi edilizi residenziali abusivi con una multa massima di 5.000 euro anche se hanno ampliato del 20% la cubatura del proprio appartamento. Cioè se io appartamento gli ho fatto un piano in più e sono in uno di questi 140 comuni, con 5.000 euro posso bonificare la mia situazione. Fantastico! E questo è fantastico perché viene in un decreto fatto dal governo dei grillini che ci hanno raccontato onestà, onestà, che non vogliono la prescrizione e che ci rompono le balle così sull'onestà di questo paese e che in realtà mettono un nuovo condono di cui oggi in Sole 24 ore si rende conto. E in realtà un condono come quello di Craxi, come quello famoso di Craxi del 1985. Identico! 5.000 euro e metti a posto tutto. Loro come Craxi. Né più né meno. Va bene? Poi possiamo discutere se è giusto o sbagliato. Ma identici. identici! Sapete perché? Perché oggi Concita San Nino su Repubblica ci parla del papà di Di Maio. Il papà di Di Maio nel 1985 nella casa dove vive Di Maio a 1986 dopo il condono Craxi nel 1986 chiede che cosa? Un condono. La casa di Di Maio dove Di Maio torna a dormire eccetera per 150 metri quadrati su due piani era abusiva e questa casa è stata condonata e ha pagato 1.000 euro nel 2006 il papà di Di Maio per condonarla il geometra Di Maio il che va benissimo l'hanno fatto tutti ma allora mi chiedo cosa ovviamente Repubblica la mette in toni moralistici perché loro sono sempre i più puliti di tutti io che sono il più sporco di tutti mi chiedo ma con quale coraggio Di Maio che viveva in una casa abusiva il cui non ha nessuna colpa perché il padre che l'ha ovviamente condonata fa un casino pazzesco per non far condidare una candidata ve la ricordate si chiamava Rosa non mi ricordo cosa in Campania perché nella sua famiglia avevano fatto un abuso edilizio e no e non è valido che tu non fai candidare una donna nella campagna perché ha fatto un abuso edilizio e poi tu vivi in una casa che è stata abusata e scusatemi non è possibile che quello che fanno gli altri è sempre sbagliato orrendo incredibile quello che faccio io invece non ha mai nessun peso stessa cosa che oggi Sallusti rimprovera a Travaglio e dell'utilizzo che ha fatto lui mi sembra delle prescrizioni Magnaschi oggi molto interessante su Italia Oggi come sempre ci racconta come viene considerato Salvini dei giornali internazionali che dice altro che Berlusconi attaccato ingiustamente da molta stampa internazionale quell'unfit di Berlusconi e quel suo sapore di mafia era una lettura acritica che l'economist aveva fatto della peggiore stampa italiana ma il punto è un altro dice Magnaschi Salvini di fatto sia dal Financial Times sia dal Wall Street Journal sia dalla stampa francese pensate un po' voi dalla stampa francese che cosa avrebbe dovuto dire dell'Italia che non vuole fare pure il Frejus beh insomma lo trattano con un certo rispetto con un certo rispetto aumentare sull'avvenire il giornale che ho preso a riferimento sul fatto che è arrivata la sentenza della Corte di Giustizia Europea quindi sentenza definitiva sull'ICI non pagato tra il 2001 e il 2006 dalla Chiesa italiana sugli immobili ad utilizzo commerciale l'avvenire dice sarà difficile che potranno toglierceli questi soldi perché non sapranno a chi chiederli e poi ci vuole un decreto attuativo del governo ma la cosa fondamentale fondamentale che dice l'avvenire comunque certificano il fatto che nei luoghi di culto non si deve pagare l'ICI quindi una mezza vittoria così la mette il quotidiano dei vescovi italiani direi che per oggi è tutto sui giornali domani leggeremo della grande vittoria dei democratici non è avvenuto questo non hanno vinto i democratici come spesso avviene in America nelle elezioni di mid term si ha una specie di equilibrio un balance of check un controllo tra i poteri e Trump non ha stravinto ha tenuto il Senato i democratici hanno vinto la Camera quindi ognuno la legga come gli pare i fan di Trump diranno abbiamo tenuto i fan democristiani avevano detto abbiamo democratici scusatemi abbiamo ripreso la Camera in realtà hanno perso tutti e due i democratici che non ci hanno fatto fare il loro colpo di scena e ovviamente anche Trump che non controlla i due rami del Parlamento americano e comunque se volete domani ascolterete su questa zuppa i commenti su come i giornali italiani tratteranno io già ci metto la mano sul fuoco l'inizio della sconfitta di Trump direi che per oggi è tutto se vi piace questa zuppa condividetela e sul sito nicolaporro.it tutte le altre informazioni ma quale grande vittoria qualcuno si ricorda i due midterm di Obama dice subito qualcuno Andrea Zappelli dovrebbe essere diverso per cento casi tra i con i 170 abusivi in teoria bello il lapsus democratici e democristiani sarà un pantano dice Silvia Daniele ciao ciao a tutti quanti voi anche a Franca ciao ciao